Due arresti ieri nell'Interland Ionico Etneo, uno ad opera della Compagnia dei Carabinieri di Giarre, l'altro eseguito dalla Compagnia dei Carabinieri di Randazzo. I Carabinieri della Compagnia di Giarre hanno arrestato Alfio Petrelia, quarantenne di Giarre, in esecuzione di un ordine per la carcerazione messo dal Tribunale di Forlì. L'uomo è stato condannato dai giudici di Forlì a tre anni, un mese e 12 giorni di reclusione per rapina, resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali, ricettazione, detenzione abusiva di armi o munizioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tutti i reati commessi nel capoluogo romagnolo nel 2015. L'arrestato, assolto le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Piazzalanza a Catania. Il 25enne di Piedimonte Etneo, Andrea Di Giovanni, è stato invece arrestato nella flagranza dai carabinieri della Compagnia di Randazzo, poiché è ritenuto responsabile di evasione. Ieri sera, infatti, l'equipaggio della gazzella del nucleo radiomobile, durante il consueto controllo dei soggetti sottoposti a misure detentive e alternative, non lo ha trovato in casa. È scattata subito quindi l'attività info-investigativa, grazie alla quale i militari sono riusciti a rintracciarlo e ammanettarlo nella casa di campagna, sita incontrata a San Michele. L'arrestato, in attesa della direttissima, è stato rimesso agli arresti domiciliari.